Io lo so che cosa state pensando. Voi mi volete chiedere perché mi trovo a Monterosso. Monterosso torna a far parlare di sé. Dopo la vittoria dell'Oscar Green per la tradizionale tecnica di tintura dei cappi a base di graffite, il piccolo comune dell'entroterra vibonese diventa un set cinematografico. Sono qui a Monterosso, Calabro, perché stiamo girando un cortometraggio per la regia di Enzo Carone, Caron Dimonio. Poi c'è quell'attore siciliano che fa vedere tutto il paese, che si chiama Toni Sperandeo. Poi c'è Marcello Arnone e poi ci sono tanti altri. Un cast artistico e tecnico di rilievo scelto dal produttore Pasquale Arnone, che ha voluto fortemente nel progetto proprio Toni Sperandeo, già Davide Donatello, per la sua interpretazione nei Cento Passi. Io ho voluto un attore che mi assicurasse poi l'uscita di questo corto a livello nazionale e internazionale. E questo nome, questa garanzia me l'ha data Toni Sperandeo. La sceneggiatura, scritta a quattro mani da Enzo Carone e Manuela Capalbo, tocca una tematica attuale, la lotta al bullismo, e sarà proposta anche ai ragazzi nelle scuole. Una bella storia concentrata, specie su una ragazza diversamente abile, quindi ancora di più, quando c'è qualche bullo che fa degli scherzi a queste ragazze, è una cosa che noi non possiamo accettare. Il cinema c'è la possibilità di poter toccare anche questo argomento. La comunità di Monte Rosso si riscopre così ancora alla ribalta, e stavolta è impegnata anche nel lanciare un messaggio sociale e di legalità. Erika Fonsolo per la Cineus 24. Erika Fonsolo per la Cineus 24.